Ciao, io sono Anna. Io sono Giorgia. In questo tutorial di danza aerea vi mostreremo una delle salite per arrampicarsi all'anca. La chiamiamo salita al trapezio. Per prima cosa vediamo come posizionare le mani in questa posizione, gomiti paralleli. Con la forza degli addominali e delle braccia ci tiriamo su le gambe a pallina e le stendiamo all'indietro. Braccia stese, gambe stese, paralleli al viso. Dopodiché le agganciamo all'amaca, spingendo i piedi stesi verso il basso, che facciano pressione, e ci rilassiamo. Dopodiché risaliamo con la forza degli addominali e ci sediamo sull'amaca, nella posizione dell'altalena. Per scendere effettuiamo una capriola all'indietro. Ecco, questa era la salita all'amaca. Ciao da Anna, ciao da Giorgia.